ok raga prima round la faccia preparatoria l'ho messa a 15 secondi tanto non credo che il dronare è stato importante io comunque sono spawnato che la zona biglietta schifo di non usare gg guardato messo povera che tu fai spawn kill da un momento all'altro no ora non lo faccio non so dividarmi ok no non lo fai vero no no perché mi diceva nemmeno che lo vado all'esterno è un gioco pagato è un gioco ottimo fidati ah ok ok comunque è bello il tuo pulso ti sei pettinato stamattina si si uno che si pulso questo è il problema che appena mi muovo c'è quel cavolo di sensore il cavolo di sensore caro diego dove sei il verbantello da nessuna parte di un'ora incostrata io non ho mai ma perché hai messo due centri di vita perché sennò si muove prima subito solo è il chef si si no dai attenzione ci va pesante mi sfiorato la vita della storia ma dai con i gadget no no e mentre sto facendo anche questo unico oh mio dio mi hai sfiorato la storia dell'umanità sul gioco è che avevo detto poi me lo dice ah 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 basta non ti riesco a prendere in testa mi sono tipo la vita della storia no come cavolo ti ho ucciso dimmelo dimmelo guarda come hai mirato lo stagio vabbè da rega ci vediamo al prossimo round ragazzi secondo round ho preso un operatore bello però che non lo posso dire sennò quel birbantello di gabbro mi sente io ti posso dare un consiglio c'ho la sole nero sull'arma primaria quindi questa mattina la stavola ricordi nessuno vero ok va bene anche se che non avevo nessuno di fatto bene a ricordare lol a cana guarda che brutta persona che sei dove sei tu hai visto chi sono sei smoke eh lo so ma i gadget non valgono lo so dove sei dove sono parte dove sono parte ah ma tu hai visto tutto eh oh mio dio tu hai visto i ricordi se si muolli in parte tu hai visto più dai no ahia e te l'ho preso tu quando abitai tu hai 140 te 264 io volevo fai colpo che mi sono trattati davanti si 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 muove in parte colpa di pietro ve lo dico subito pietro iiii non si rompe la porta vai hätte che mica è è che che divine Hanno una No, 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 no. No, 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 no e ma dopo questo prendere in testa parole sante diceva parola somma basta però ti prende solo lì oltre dai polla pesante basta prendermene il corpo ma io non so perché io ti miro la testa e i colpi vanno in giù io so cosa fare sto cercando di migliorare da un'ora in questo gruppo che ci era dato non muoio si sta però così no io so che tanto muoio adesso meglio aia mi hai preso il wall bank ci ho preso davvero non ci credo colpa la testa non ci credo ma che due paletti bene ci vediamo il prossimo round ok raga terzo round sono un operatore molto divertente vero gabbro te non l'hai visto eh si lo so tu sapessi il mio te sei twitch becca la mi hai visto il drone lo sapevo io sapevo perchè ero messo dentro inizio 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 non si sa come il drone prima io menti io va bene questa volta c'è un mirino che dovrebbe prendere sempre la testa ma sai ma la vita non c'ho la mia la mia brutta quella brutta ancora più brutta come sei scusa come sei scusa oh sei tu e che spari headshot 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 impassibile cosa guardi cosa stai guardando cosa guardi ah stai allo stadio ok ma che dicevo dove sei da qualche lato dove sei non ti salti nemmeno lo sapevo ma come fai a prendermi dietro il muro lo sai io sono io sono un hacker se no te l'avevami detto lo sai ah ah aspetta intanto devo provare su quattro di vita vabbè allora c'è per quattro di vita non ci sei eh no nulla non è che lo sai vero no 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 non sto scherzando no iiii potrei rimanere ancora un po' lì ma poco eh non molto poco se non fosse stato che ti sei mosso agli ultimi tre vengala ahah lo sapevo guarda guarda gg raga ci vediamo di nuovo al prossimo ok raga quarto round ho preso un operatore che ti do un indizio gabbro eh fai buchi hai già capito ah no fai buchi si guarda no come fa a fare i buchi no vabbè altrimenti non te lo direi lo stesso è meglio non cercare mille di azzeccarci ahahah non mi fido molto non so dove sei non so dove sei anche io a questo punto se non sei la torre io ho questo proprio presentimento dentro il cuore e e ma tu sei dentro oi 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 ora brutto pimpolino lol sai che mi hai tipo mi hai sfiorato nella vita della storia dell'umanità ora no il bimbo no 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 aia ah cavolo ma dove vai 160 ok vedi ora che poco adesso io aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaa oh non hai scappato niente in testa oh anche io devo riusciare come sei? ma non so boom perfetto ok 2 a 2 per me babies ma come? ti ho preso male vabbè raga prossimo round raga quinto round ho preso il signore oscuro forse gabbro no non potrà capire ora forse affisce se l'hai capito? hai capito? ah vigi ok oh dove sei? sei dietro? ah no io non ho messo one tap stiamo facendo uno scontro all'aperto boom bella questa bella questa vabbè one tap l'ho fatta ok va bene perfetto grande tanto buonissimo ci vediamo al prossimo round sesto e ultimo round se dovessi vincere ho preso la signora dei vodafone eh hai già capito hai già capito vero? no no non fare sporchi vai via come ho l'ho fatto a prendermi si tu ti sei preso ad ok la signora dei vodafone si eh? la signora dei vodafone eh si non mi chiami non mi chiamo stavolta vodafone è vodafone ok allora si pronto chi è? non c'è nessuno ho buttato giù ma come sei dietro? mi hai sfiorato mi hai sfiorato nella vita devo ya ancora che più lunghi no no ya eh fossi sopra ehi così ne parliamo è difficile prendete ok vodafone ancora? sempre vodafone però eh basta non c'è nessuno non c'è nessuno nooo come mi hai preso come mi hai preso a culeto direi guarda non mi avete nemmeno visto vabbè dai raga prossimo round settimo round ho preso il signore del grimaldello che sarà mai eh ma non è vero sei stupido no eh no eh ma vale ma vale se per mmm ho messo uno scudo davanti alla porta per ma per non fare o cosa sta succedendo che è che è no no ma no vabbè non che è Oh 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 Oddio Oh 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 C'è tanta di vita Eh dai Eh ma hai preso ora te Ti prendo Non so Devo prenderti Ancora Non ci credo Dai Dividere le play Guarda Ma come fai a prendere Vabbè 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 raga Al prossimo round Ottavo round Inizierò subito con un one tap Boom Anzi due Boom Anzi sei dai Oh ma non muo Vabbè Tieni No Anche gli altri vai Sto mal Io sto maltrattando lo stage Non È vero Sai che mi hai detto praticamente dove sei Gigi Eh Non mi sono montato Guarda La persona che mi fa fuori lo spawn kill E vedo Dove è che è spaccato? Come mi ha fregato eh C'è ancora Nela Ancora Nela Ehi Ehi C'è molto Allora Non sapevo L'ho sentito Ahah C'è molto C'è molto l'accampere qua è un bene canterà quando stagione potrei fare molto bibi per non potrei fare molto bribbi per dare l'ostaggio in mano scarti con la pistolina ma come fai dai non ci credo hai vinto ora voglio vedere come come sconfitta è giusta ma ingiusta un tot vabbè da ragazzi ci ha detto mi diciamo che è stato gabbro 67 guardo la come si lavanta spero vi sia piaciuto il video lasciate un like se è così scrivete se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao belli